Bene cittadini, ed è un grande onore annunciarvi che c'è un grande ospite stasera qui con noi, Enrico Montesano! Prego, prego, da questa parte! Benvenuto, benvenuto, benvenuto! Benvenuto, che piacere, che piacere! Ciao, ciao, come state? Noi, l'amore e l'affetto! Troppo buono! Grazie, grazie! Che carino, troppo buono! Troppo buono! E il grande Enrico Montesano! Enrico Montesano, o è meglio chiamarti Conte Tacchia? Anche Conte Tacchia! Ebbene, sai che pacchia! Quando c'è stato ancora il Conte Tacchia! Una grande versione cinematografica con Vittorio Gassman e Paolo Panelli, a cui facciamo un grande applauso! Un grande applauso! E adesso questa è la versione teatrale! Teatrale, commedia musicale... Di cui tu sei anche regista? Sì, 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 sono anche regista, mi trovo bene perché quando dico una cosa mi do sempre ragione! Ottimo, ottimo, ottimo! Come attore mi do ragione! Non è come noi, perché noi, essendo due, non troviamo mai la maggioranza, per cui in qualsiasi cosa siamo spacciati! Ma questo è anche il Pepe, il Pepe, voi siete spiritosi! Eh, grandissimo, ha fatto la voce di Totò, di Totò! Per bacco! Il maestro di tutti! Il maestro di tutti! Il maestro di ciclopedia! Lo salutiamo ovunque egli si trovi in questo istante! Il principe! Il principe della risata! Dunque, dove... Dai, dai, vedi tu! Ah, dunque, dal 21 al 24 febbraio, aspetta un po' che mi faceva tutto, non vedo bene, a Torino, poi andiamo a Reggio Calabria, poi a Catania, poi a Isernia, poi a Firenze, Bologna, Cosenza, Bari, si cambia! Insomma, potete andare ovunque a vedere il Conte Tacchia e come vedete adesso cittadini indossiamo tutti delle spille, anche Enrico... Per una cosa bella! Esatto, una bellissima iniziativa, fino al 3 marzo si terrà la raccolta fondi tramite sms a favore di Dinamo Camp per contribuire a regalare una vacanza a 450 bambini affetti da patologie gravi o croniche. Per partecipare basta inviare un sms al numero 45519, lo voglio ripetere, 45519, o chiamare da rete fissa. Messaggiante, messaggiante! Dona, dona al 45519, lo vogliamo sempre ripetere, 45519 e sostieni la terapia ricreativa Dinamo. Bene, e allora per noi è stato un grande piacere a tutti tutti a teatro a vedere il Conte Tacchia, domani appuntamento con papelissima stream, che ne state per tutta la famiglia. Noi ci rivediamo lunedì! Ciao! Ciao, ciao!